La Commissione Europea ha approvato oggi la quarta richiesta di pagamento dell'Italia di 16,5 miliardi di euro confermando che l'Italia ha raggiunto tutti i 28 obiettivi e traguardi previsti. La valutazione positiva della Commissione Europea dimostra i grandi progressi fatti dall'Italia e a pochi giorni dall'approvazione da parte della Commissione della Revisione Generale del PNRR conferma il grande impegno del Governo per attuare pienamente il PNRR e rendere il Paese più moderno e più competitivo. Gli obiettivi e traguardi raggiunti nella quarta rata riguardano importanti riforme nei settori dell'inclusione sociale e degli appalti pubblici nonché misure necessarie per proseguire l'attuazione delle riforme in materia di giustizia e di pubblica amministrazione. I principali investimenti oggetto della richiesta di pagamento sono legati alla digitalizzazione in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud lo sviluppo dell'industria spaziale, l'idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l'istruzione e le politiche sociali. Il pagamento dei 16,5 miliardi di euro è previsto entro la fine di quest'anno. L'Italia avrà così ricevuto entro il 2023 circa 102 miliardi di euro quindi più della metà dell'intero ammontare del PNRR. L'Italia sarà anche l'unico Stato membro dell'Unione Europea ad aver già ricevuto il pagamento della quarta rata. Si conferma così il grande lavoro del governo, di tutti i livelli istituzionali, della cabina di regia del PNRR perché queste risorse arriveranno interamente a terra e lo faranno nei tempi previsti.